Il vero è successo all'inferno, per un poco di arice dentro al caffè, quella cosa curiosa, si è fatta venire la mosso, un altro corpo doveva correre la croce russa doveva correre. Ignorantella, ignorantella, semmai per loro deve correre la mezza luna la croce russa, ma come si fa a essere così ignorantina a non sapere che i musulmani non bevono alcolici, per loro è come, come dire, come commette un mercato mortale, è come perdere il paradiso di Allah, ecco. Eh ma che lo vio dire che lo sapeva, quello ci ha fatto il caffè con la mano del cuore, ah bueno, si è ricicuto, nemmeno così, ecco Gabriele ha fatto il passo, se l'è presa con noi, ha detto che noi dobbiamo rispettare le esanze della moglie, addirittura, guarda qua, ci ha fatto una lista in triplice coppia delle cose che possiamo fare e che non possiamo fare, ti è guarda. Esagere addirittura, l'ha fatto questo, mamma, uè, uè, sta scritto, niente alcolici, niente pietanze a base di maiale, ah, mai girare in casa in mutande. Siete valenti la capacità, ma voi in casa come la potenza in mutande? Ma Riccardi, ma non sto scemo, non ci metto in mangiare in casa in mutande, e sa, può succedere che così, stando tra donne, uscendo dalla doccia, poi uno che ci vede. Eh, giusto così per dire, non dire parolacce, eh, e tu lo sai, tesoro, mi conduvo più bene, non dico mai le parolacce, eh, ah, non fornimicare in pubblico, sia perché stiamo fatto una madame sessuale, ma poi chi l'ha fatto mai? Eh, chi l'ha mai visto? Vabbè, andiamo avanti, ah, non nominare il nome di Allah in vano, uè, lì sta fatto i 10 comandamenti, cagò, non è finita, siente così, non fa toccare a Fatma da mano maschile, siente? Faccio un'esercitazione, ma faccio un'esercitazione, perché non cagò! E quelli siciliani dalla dominazione araba vengono, la loro gelosa amorbo, se da là proviene Riccardi... Riccardi... Eccle poi sti fiumbori, che passa? Tu, dico tu, me le faresti mettere le mani addosso da un altro uomo. Ma qualcuno che dà te l'altro? Nooo, Riccardi, da un maschio, eh, da un maschio che mi volesse toccare qua, qua, qua... E questo mi ha fatto l'aria solo, ma... Ma che mi fai pensare, che mi fai dire? Ma si scepe, carità, ma cosa dici? Ah, vi faccio mettere in mano quella... Ma non ci le colgo così però, dall'estesista sì, dal parchiere sì... Ah, Riccardi, ma vado a rif... Vabbè, comunque, io mi sono portato il Corano con la traduzione in italiano. Così, a mali estremi estremi, rimetelo, apriamo e controlliamo ogni minimo dubbi, che cos'è? Abbiamo passato su a inoltre a questa casa. Ah, ma noi stiamo mantenendo in mano perché vogliamo bene a Gabriele, altrimenti... Eh, vabbè, ti ho provato a mettere in mano, ma ti ho visto? Vabbè, io mi provo un attimo a vestiti là, altrimenti muoverà la figlia e me lo metterà, vedendo in camicia da notte, va a finire che ce l'è nata mosso. Riccardi ti raccomando, non tocca niente e non fa guai, che mamma, pure a te, poco di povero! Sì signore, mamma, 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 mamma... E non abbastava, caldo, eh! Mamma, ho di un bene laureato, faccio a prendere a te, mamma, di riccardi, eh! Non abbastava, ci levo solo tutta un cammine, in casa, in casa, in casa. Si può mangiare una sasiccia, una tracchiulele, si può mangiare una custole, si può fare niente, si può picciare la televisione, si può fare niente, pochera! Mamma, mamma, pochera, ti puoi picci! Ma, se parò ci mi deve rifunto, allora, io, canto! Non parò, guardi me la belle! Ah! Vedovi! Vedovi! Vedonovi molte! Up! Vedovi! Vedovi! Vedonovi cori! Vedovi priced! Vedovi! Grazie per la visione!